Eccoci ad un nuovo appuntamento. Immagina di voler raggiungere un obiettivo. Stai quasi arrivando al traguardo quando per un tuo errore tutto va a monte. Come ti sentiresti? Quali emozioni proveresti nel vedere il tuo obiettivo svanirti tra le mani? Oggi parleremo proprio di questo argomento. Parleremo di fallimento e ti spiegherò come superarlo. Ciao se non mi conosci io sono Angelo e sono uno psicologo. In questo canale ti parlo di psicologia, autostima, crescita personale, relazioni interpersonali. Se ti interessano questi argomenti devi assolutamente iscriverti al canale e mi raccomando non dimenticare di cliccare sulla campanellina delle notifiche così non perderai nessun video. Come hai potuto sentire in presentazione oggi torno a parlarti di fallimento. Ho già dedicato a questo argomento diversi video. Se li hai persi ti lascio il link di approfondimento giù in descrizione. Ho scelto di riprendere questo tema perché voglio darti delle strategie utili per affrontarlo. Il fallimento è un'esperienza che tutti noi viviamo. Alcune persone rimangono bloccate dal fallimento mentre altre utilizzano il fallimento per crescere e raggiungere gli obiettivi desiderati. Nel video di oggi ti spiegherò la mia filosofia sul fallimento e poi ti darò alcune strategie pratiche per superarlo. Ma entriamo subito nel vivo del video e vediamo che cos'è il fallimento o meglio qual è la mia filosofia sul fallimento. Molte persone vedono il fallimento come qualcosa di terribile da evitare assolutamente non sapendo che la loro sofferenza è la diretta conseguenza del loro modo di percepire e vivere il fallimento. Se noi impariamo a cambiare la nostra idea del fallimento, se noi impariamo a dare un significato differente al fallimento riusciremo a gestire meglio anche il nostro carico emotivo. E allora come possiamo vedere il fallimento in maniera differente? Spesso noi etichettiamo come fallimento un risultato che non volevamo. Mi quando noi etichettiamo un evento come fallimentare probabilmente abbiamo dentro di noi l'idea dell'obiettivo, del risultato da raggiungere. Con il fallimento etichettiamo la distanza tra l'obiettivo desiderato, l'obiettivo voluto e il risultato che in realtà abbiamo raggiunto. Maggiore è la distanza tra questi due punti è maggiore è la sensazione di fallimento. Ho deciso di spiegarti questo perché credo che sia fondamentale evitare di percepire il fallimento come qualcosa di statico, come una condanna. In verità il fallimento non è altro che l'espressione di quelle strategie che abbiamo utilizzato e che non hanno funzionato. Se immaginiamo il successo come un'autostrada io voglio immaginare il fallimento come un autogrill dove noi ci fermiamo per ricaricarci. Infatti il fallimento ci sprona a riflettere sulle azioni che abbiamo compiuto e che hanno funzionato e su quelle strategie che invece ci hanno bloccato. Se noi impariamo a percepire il fallimento in maniera differente, se noi impariamo a vedere il fallimento come un insieme di strategie non utili, potremo sfruttarlo per raggiungere l'obiettivo desiderato. In un precedente video ti ho spiegato ad esempio come imparare dai propri errori. Lo ritengo un video fondamentale per le persone che vogliono sfruttare il fallimento per la propria crescita personale. Quindi se non lo hai visto ti lascio qui il link per andare a vederlo. Il primo spunto di riflessione che voglio lasciarti con questo video è che il fallimento non è una situazione stabile, terribile da evitare assolutamente, ma un evento normale nel nostro percorso di crescita. Il fallimento è quel momento nel quale dobbiamo fermarci per riflettere su quello che abbiamo fatto e su dove vogliamo andare. Dopo questo primo spunto di riflessione vediamo quali sono le 5 strategie utili per affrontare, superare al meglio il fallimento. La prima strategia è quella di essere gentile con te stesso. Mi trovo troppo troppo spesso a lavorare con persone che si criticano in maniera severa e ingiustificata. Molto spesso questa critica aumenta quando le persone non raggiungono un obiettivo, quando non raggiungono il risultato desiderato. Ti è mai capitato di criticarti per aver sbagliato qualcosa? Come ti sentivi successivamente? E cosa ancora più importante, criticarti ti ha aiutato ad affrontare problemi? Se riflettiamo su queste domande scoprirai che la critica è totalmente inutile. Criticare se stessi non fa altro che minare l'autostima e bloccare il processo di crescita. Ti invito invece a sviluppare un atteggiamento differente, quello di gentilezza verso te stesso. Impara a comprendere che in quanto essere umano puoi commettere errori. Sicuramente a tutti noi piacerebbe non commettere mai errori, ma la realtà della vita è che siamo esseri umani. Gli errori fanno parte del nostro percorso di crescita. Quindi invece di criticarti in maniera severa, cerca di essere gentile e comprensivo verso te stesso e anche verso gli errori che hai commesso. Le persone molto spesso si criticano dicendo di non valere, di essere dei totali incapaci, di non essere buoni a nulla. Secondo me queste critiche non fanno altro che minare l'autostima alla radice. Essere gentili con se stessi non significa giustificare gli errori oppure non vederli. Credo che sia fondamentale riconoscere quando noi facciamo uno sbaglio, ma credo che sia ancora più importante riconoscere i nostri meriti, riconoscere quando abbiamo utilizzato delle strategie utili. Quando ci troviamo ad affrontare un fallimento, credo che sia anche importante riconoscere quali di questi risultati sono una nostra responsabilità e quali invece erano totalmente fuori dal nostro controllo. Infatti molto spesso le persone che si criticano in maniera severa e rigida tendono a attribuirsi responsabilità che in realtà non hanno. Usa un atteggiamento gentile verso te stesso, riconosci il tuo impegno, i tuoi meriti, quello che hai fatto di buono e giustamente riconosci anche gli errori che hai commesso. Ma ricordati che essendo un essere umano è normale commettere errori. Gli errori non ti rendono totalmente incapace di non valore o una brutta persona. Semplicemente ti rendono umano. La seconda strategia che voglio proporti è quella di imparare la lezione che c'è dietro il fallimento. Come ti ho detto prima, ci sono persone che percepiscono il fallimento come una condanna, come qualcosa di statico. Queste persone sono quelle poi che tendono a criticarsi in maniera eccessiva e a rimanere bloccati dal fallimento. La realtà è che noi possiamo sfruttare l'esperienza dolorosa del fallimento per la nostra crescita personale. Prova a pensare a un tuo fallimento passato. Prova a pensare a quella volta nella quale volevi raggiungere un obiettivo e non ci sei riuscito. Quale insegnamento puoi trarre da quell'esperienza? Se noi lasciamo scorrere il fallimento come qualcosa da non valutare, come qualcosa di brutto da non considerare, impediremo a noi stessi di imparare dal fallimento, di capire quale lezione il fallimento ci vuole trasmettere. La terza strategia che ti consiglio di attuare è quella di interrogarti sulle tue paure. Perché dobbiamo dire una grande verità. Il problema non è non raggiungere un obiettivo, il problema non è fallire, ma il significato che noi attribuiamo a questa esperienza. La sofferenza che provi di fronte al fallimento è la conseguenza delle tue convinzioni sul fallimento. Pensa ad un'esperienza spiacevole di fallimento che hai vissuto e cerca di capire quali emozioni hai provato. Successivamente cerca di fare un passo più in basso, cerca di capire come mai ti sentivi così, quali significati stavi attribuendo a quell'esperienza. Grazie a questo passaggio scoprirai cosa c'è dietro la tua paura del fallimento. Cosa dici a te stesso quando pensi al fallimento? Cosa pensi di te stesso quando vivi un'esperienza simile? Che è qualcosa di intollerabile? Che sei un totale incapace? Che se non riesci sei un fallito? Sei una persona di poco valore? Questi sono i significati che possono essere la base della tua sofferenza. Indaga meglio dietro l'emozione e scoprirai cosa veramente ti spaventa del fallimento. Un'altra strategia è quella di creare una lista di essai. Prendi un foglio e scrivi 4-5 degli scenari peggiori che tu immagini quando hai paura di fallire. Questo esercizio ti aiuta a guardare oltre il fallimento. Se tu dovessi vivere quei 4-5 scenari peggiori, come potresti reagire? Cosa potresti fare per superare quei momenti? Questo esercizio ha lo scopo di aiutarti a riconoscere le tue risorse interiori. Molto spesso infatti le persone temono il fallimento perché non riconoscono le proprie capacità, non riescono a vedere la propria forza interiore. Il fallimento viene visto come una montagna enorme insormontabile. La realtà è che hai molte più risorse di quelle che pensi. L'esercizio del esse ti aiuta a sviluppare un'immaginazione oltre il fallimento. Ti aiuta a capire che puoi superare anche le situazioni più tragiche, le situazioni peggiori che puoi immaginare. Un ultimo suggerimento che voglio darti è quello di indagare di cosa hai veramente paura. Molto spesso il timore del fallimento non è altro che un timore superficiale che nasconde delle paure più profonde. Ed è fondamentale andare a riconoscere queste paure per smontarle, per andare a lavorare sulla radice della nostra paura del fallimento. Molte persone hanno paura di venire abbandonate a causa del fallimento oppure di scoprire che non hanno quel valore che loro immaginavano. Oppure di prendere consapevolezza che non possono ottenere tutto dalla vita. Alcune volte il fallimento nasconde delle paure ancestrali che possono avere la loro origine nella nostra infanzia. Quando vivi un fallimento soffermati sull'emozione che stai provando. successivamente concentrandoti su di essa cerca di andare più in profondità e capire cosa veramente ti sta spaventando. Qual è il tuo timore più profondo che si nasconde dietro quella paura del fallimento. Prendere consapevolezza di questi timori ti aiuterà a sciogliere queste paure e di conseguenza affrontare il fallimento in maniera più costruttiva e meno traumatica. Spero che questo video ti sia stato aiuto nell'affrontare il fallimento. Se hai delle domande, delle curiosità tranquillamente puoi scrivermi nei commenti. Ti suggerisco poi di vedere quest'ulteriore video sul fallimento e poi ti ricordo di iscriverti al canale. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento.